Buongiorno ragazzi, lunedì 22 luglio 2024, sono qua con il mio amico Sante Tra tre giorni c'erano 58 Avete capito? Tra tre giorni compie gli anni Cioè praticamente sembrava quello della pubblicità, della Kodak Kodak Insomma 58 anni 58 anni ragazzi Mamma mia Tuona che è appena passato un aereo Osservate il cielo Osservatelo il cielo Neanche una nuvola però per il mio amico Sante sta tonando Adesso volevo fare un bel video con il mio amico Sante che è qui seduto nel carrello Che lo porto a spasso Sante, dai che ti porto a spasso Ok? Adesso ti tieni stretto Dove vai? Dove sei? Sono qui Dove sei? Adesso ti tieni stretto Tieni stretto qui che io ti porto a spasso Dai Tieni stretto Dai Dai che ti porti in giro, stai su Metti sui piedi Dai che ti porti in giro No, metti su dai Oh, eccolo qui con il mio amico Sante Che lo porto a spasso E lui si diverte Ti stai divertendo? Sante sul carrello Ecco che si è fatto il suo giro di Giorgio Ragazzi vi dico niente che tra qualche giorno compie gli anni Fate gli auguri sul gruppo numerosi a Sante il Comachiese Sante saluti i tuoi amici Puoi guardare anche da un'altra parte Esatto Guarda qui che bello che sei Con l'occhio L'occhio di ferro C'è un'occhio C'è un'occhio C'è un'occhio